Una aristocratica famiglia siciliana Papà, mamà, vado a stargli un paio di giorni a fare i funghi I suoi bizzarri componenti Hai necessità di un uomo che ti sia pace e marito La Marchesina mi vuole? La vuole, la vuole Le loro trame Chiarissimo avvelenamento da funghi Che sta dicendo lei? Me l'ammazzano E nessuno mi crede I loro vizi Don Filippo Peluso Mi dicono che ne ha fatte tante E se ne ha fatte... Di chi è? Rabbonarino Marchesi Cioè lei viene qui a contare una doltea Ma a lei che tiene fatta Una tragica commedia dalla penna di Camilleri La stagione della caccia Sabato alle 21.20 Rai 4